E per le giornate molisane sull'ambiente e la salute, l'Associazione Medici per l'Ambiente propongono la costruzione nell'intero territorio regionale della rete dei medici Sentinella. Vediamo. Tornano ad incontrarsi i medici molisani che aderiscono all'ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, e lo fanno a Campobasso in occasione delle giornate molisane Ambiente e Salute, proponendo una serie di riflessioni sul tema che analizzano le condizioni complessive del mondo contemporaneo e proponendo per il territorio della regione una rete di medici Sentinella. Tra gli ospiti il presidente internazionale dell'ISDE, il dottor Ferdinando Laghi, che ha affrontato la specificità di una domanda precisa, quella se necessario spegnere le combustioni di origine antropica. Tutti parlano del pianeta. In realtà il problema non è il pianeta, nel senso che la Terra c'è da 5 miliardi di anni e durerà altri 5 miliardi. Il problema è la razza umana che è comparsa pochissimo tempo fa e di questo passo si estinguerà fra brevissimo tempo. Quindi bisogna anzitutto focalizzare che noi dobbiamo lavorare per continuare a vivere su questo pianeta che ci sarà comunque. Detto questo, come lei giustamente ha puntualizzato, i comportamenti. I comportamenti non sono assolutamente adeguati, ma non sono adeguati soprattutto i provvedimenti, i comportamenti dei decisori politici, diciamo che sembrano ignorare quelli che sono i portati scientifici che ci dimostrano per esempio che i cambiamenti climatici sono di natura antropica, cioè sono determinati dall'uomo e che nulla fanno, nulla fanno di sostanziale per controbattere appunto i cambiamenti climatici e quello che è collegato al cambiamento climatico. Quindi l'effetto serra, ma anche l'inquinamento, per esempio l'inquinamento atmosferico. Noi sappiamo, perché lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che 7 milioni di persone l'anno muoiono per l'inquinamento atmosferico, che il 91% della popolazione mondiale non respira area adeguatamente pura e quindi noi dobbiamo assolutamente intervenire. Uno degli elementi fondamentali è certamente il problema delle combustioni, cioè le combustioni di origine antropica, cioè quelle che servono di solito alla produzione energetica. Quindi penso ai combustibili fossili, ma penso anche per esempio ai falsi combustibili rinnovabili come le biomasse. Allora i processi di combustione vanno ridotti ed eliminati quanto prima.